E' partita da Piazzale Enzo Baldoni una delle quattro manifestazioni a difesa del comparto agricolo organizzata in Sicilia nel giorno in cui al Parlamento europeo si riuniscono i ministri dell'agricoltura dei paesi dell'Unione. Sindaci, agricoltori, organizzazioni di categoria, studenti e cittadini hanno preso parte al corteo che dopo aver attraversato il ponte di via Mazzini ha percorso via Recapriata, Corso Roma, prima di giungere davanti al municipio in piazza Progresso. Parecchi primi cittadini della fascia meridionale siciliana presenti alla manifestazione. A fare gli onori di casa il sindaco Angelo Cambiano. Ogni posto di lavoro è vita, quindi dignità del lavoro e dignità di un'intera città e di un'intera economia. Non possiamo competere con un'importazione sconsiderata, non possiamo competere con l'utilizzo di fitofarmaci senza le opportune regole e non possiamo permettere che i lavoratori non riescano a coprire costi di produzione e qualche centesimo per i loro prodotti, quando poi nella grande distribuzione troviamo i prodotti rincarati di euro senza alcun controllo e senza alcuna tutela. Con Gambiano in testa al corteo ha anche il sindaco di Palma di Montechiaro Amato, quello di Nisce Milarosa, rappresentanti dei comuni di Naro, Campobello e Ravanusa, oltre al primo cittadino di Gera, Domenico Messinese. L'agricoltura è un'attività economica vera, non è un'attività di serie B, ma anzi dovrei dire che forse è un'attività con una tradizione di millenni e che consente il sostentamento di intere comunità e che consente di poter avere il benessere che un territorio deve avere. Noi all'interno della comunità europea abbiamo di fatto stata distrattata l'agricoltura a vantaggio di altri tipi di produzioni più moderne e più tecnologiche. Bene, questo non è possibile perché per fare gli interessi di pochi mettono a repentaglio la vita di tanti, fra le altre cose non è soltanto il problema degli agricoltori, ma è proprio un problema culturale, civile e di evoluzione. L'agricoltura è stata la tradizione ed è giusto che noi la supportiamo in modo equo. Qua non si chiede di fare cosa eccezionale, ma solo evitare che praticamente venga svenduta l'agricoltura a vantaggio delle multinazionali. È un momento particolare e ci vogliono enormi particolari. È un momento in cui o si fa sentire la voce oppure la voce già ci viene a mancare. C'è molta gente che non è presente perché non è in condizione più di partecipare. Ormai c'è quella dissuasione, proprio c'è quell'indifferenza. Qualunque proposta che tu fai viene presa e è lasciata scemare piano piano. Adesso basta. L'assessore Cracolici predispone un disegno di legge per la crisi del pomodorino e della grume. Il nostro ministro che se ne va a Bruxelles. I nostri europarlamentari che votano a favore dell'ingresso di 75 tonnellate di olio tunisino. Ci deve essere una linea che va dai comuni, dai sindaci fino ad arrivare a Bruxelles che sia una linea diretta.